E poi, ah cavoli, in campo, mittico Leonardo Fiaschi! E poi abbiamo anche, oh un altro grande, Franco Ipsolo, in campo anche lui! Poi l'onorevole Marco Filimpeschi, il capitano, l'assessore Paolo Gezzi. Abbiamo anche un medico, non si sa mai, non si sono mai... Allora, salutiamo i ragazzi della MP, Lisa, Martina e tutti gli altri ragazzi che in questi mesi hanno coordonato. L'organizzazione dell'evento, vi ricordo poi che quest'estate vi aspettano sul lungomare di Tirrenia e Marina di Pisa con tante novità, tanti eventi. Quindi l'estate per gli amici di Pisa sarà una lunga e caldissima estate. Quindi salutiamo i ragazzi della MP, tu sei sempre qua in mezzo alle donne, come al solito. Intanto, vediamo un attimo... E poi mi mette a Salsiro e c'è il gol! Il pareggio del sindaco di Lari, sindaco, una dichiarazione alla stampa dopo il gol! Sindaco! Sindaco! Sindaco Bencacci! Come sono le ciliegie quest'anno?